Un nuovo ciclo di catechesi per scoprire o riscoprire la bellezza della celebrazione eucaristica, quale segno dell'amore di Dio e via privilegiata per incontrarlo. All'udienza generale, Papa Francesco ha ribadito che per i cristiani la formazione liturgica è indispensabile per un vero rinnovamento e che senza l'eucaristia la vita dei discepoli di Cristo morirebbe. Tra i primi aspetti messi a fuoco dal pontefice, il segno della croce, un gesto al quale bisogna istruire con grande cura i bambini e l'attenzione completa da dedicare alla messa, nonostante i preti noiosi, perché rappresenta la presenza del Signore e non uno spettacolo. Non dice in alto i nostri telefonini per prendere la fotografia, no, è cosa brutta. E io dico a me dà tanta tristezza quando celebro qui in piazza o in basilica e vedo tanti telefonini alzati, non solo dai fedeli, anche da alcuni preti e anche vescovi. La messa non è uno spettacolo, è andare all'incontro della passione e della risurrezione del Signore. Per questo il sacerdote dice in alto i nostri cuori. Cosa vuol dire questo? Ricordatevi, niente telefonini.